Schar fatto, si dice ad Arezzo, Deglio Rossi già da quando era alla Fiorentina, che era solito nelle incazzature e cazzottare i giocatori. Solito, ma sempre esagerato. Insomma, ecco, poi a me non è piaciuta la sua giustificazione. Io quando sono stimolato, quando sono offeso reagisco. Un allenatore non è un ultras della curva. Buongiorno a tutti. No, indubbiamente no, anche perché con un calcio come oggi, che basta una scintilla per provocare magari disordine fuori dallo stadio, bisogna starci molto attenti. Però ecco, mi fa anche ridere da una parte la richiesta di moralità da parte dei giocatori che durante la partita, tutta la partita, mandano a quel paese l'arbitro. Poi non credo che Burdisso sia esente da colpe, insomma, non credo che Deglio Rossi si sia inventato quel gesto sbagliatissimo, perché poteva mandarlo a quel paese così, senza fare quel gesto. Sì, poi anche americano, così americano. Sì, però evidentemente Burdisso qualcosa deve avergli detto. Però è chiaro che te sei l'allenatore, sei più grande, devi avere esperienza, stai vincendo. La Roma è in una crisi pazzesca perché ha cambiato l'allenatore, ma non ha risolto i suoi problemi. Ora scatterà sicuramente il giallo di Osvaldo, perché insomma ha tolto il rigore a Totti, che poi non si è capito, anche Totti perché non si è imposto. Probabilmente l'ha fatto per evitare le sceneggiate, ha tirato tra l'altro il rigore da ridere. E quello poteva essere il rigore che cambiava la partita, perché era 1-0 per la Sampdoria, andava 1-1 e poteva capitare di tutto. Oggi i calci nel sedere si sprecano? No, si sprecano. Diciamo che Genoa-Roma e Sampdoria-Roma due calci nel sedere devono prendere, perché sicuramente Deglio Rossi è stato provocato. Ciò non toglie però che non può fare un gesto così plateale davanti a tutti. Poi, ripeto, non mi va bene neanche il discorso di tutte le ramanzine che gli hanno fatto gli altri, perché insomma anche De Rossi non è nuovo a gesti inconsulti quando gioca, capate, testate, gomitate. Quindi è un errore, però lo devono giudicare secondo me neanche gli addetti ai lavori, perché anche loro non sono esenti da colpe. Osvaldo stessa cosa, insomma ci vuole rispetto, io capisco che lui l'aveva fatto evidentemente perché si sentiva carico, viene anche lui da un momento un po' di crisi, però insomma alla fine viene fuori che per voler rimediare in tutti i modi poi fai più casino, infatti è venuto fuori che ha tirato un rigore che neanche uno dei pulcini. L'idea è che nella Roma non ci sia chi detta le regole, oppure chi non le fa rispettare. Sì, sicuramente, ma ieri probabilmente era anche un modo per voler dimostrare questa grande voglia, però ripeto, quando poi non tieni a freno e non controlli i sentimenti, nel bene o nel male poi rischi di fare molto peggio ed è un peccato perché ripeto, la Roma è una squadra strepitosa, specialmente dal centrocampo in su, ma è forte anche dietro, perché è una bellissima squadra, però non riesce a trovare la quadratura del cerchio, però insomma è anche vero che Andreazzoli è arrivato ora e quindi insomma è un po' presto per giudicarlo, aspettiamo almeno un paio di settimane e vediamo se trova questa quadratura. Poi un altro calcio nel sedere lo prende il Palermo, anche ieri ennesimo campo dell'allenatore, deve ringraziare l'ex giocatore dell'Udinese, che ora non mi ricordo il nome, che ha pareggiato proprio in estremis contro il Pescara e quindi un punto che non fa classifica perché il Palermo è mestamente ultimo in classifica con 18 punti al pari del Siena, però ricordiamo sempre che il Siena è partito con meno 6. Il Pescara che è terzo ultimo a 21 punti credo che sia un problema e probabilmente Zamparini alla fine, certamente non i tifosi del Palermo, non Palermo città che è una grandissima città e merita la massima serie, ma Zamparini poi alla fine con questa sua politica scellerata alla fine se lo merita una volta le batte c'è il muso perché voglio dire non si può far lavorare l'allenatore due settimane sempre nella graticola, ma soprattutto dopo aver negli anni indebolito la squadra come ha indebolito lui. Quello che io mi domando è questo, Zamparini commette questi errori da anni e da anni continua a commetterli. O non c'è nessuno che lo sa consigliare? Zamparini a me lo sai che mi sembra, mi sembra la versione macro del nostro ex presidente dell'Arezzo Mancini, molto macro, il tuo telefono, che cosa penosa. Tanto sarà la fine. Una cosa penosa, siamo alla fine, lui ha il capolinea, non so se ripartiremo, ora risponde sicuramente uno che gli ha ordinato il pane, senti chi è dai, senti noi. Ah è Belen. Ah Belen, sì sì. Belen, scusa, ora c'ho da fare. Eh lo so, è pieno. Sì vabbè, se vuoi riusci con me la tua sorella, sì. Va bene, dai, si esce tutte e quattro. Eh, è pieno. Un amico? Sì. Ce l'ho, ma è bruttino. No, lo sai chi è l'amico? L'amico della Belen è un transe con il quale lui ha rapporti da due anni. Siamo dopo che ora so con noi. Vi saluto a tutti, purtroppo è così. È un uomo arrivato, capolinea, non c'è più itinerari, è finita. Ciao. 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 Ciao.